e ciao a tutti casteldacci bentornati sul canale siamo ritornati sul visage come sempre si muore dal caldo io non ce la posso fare questa estate troppo calda non quanto l'anno scorso cioè non mi ricordo nemmeno dove ero arrivata allora c'era un accendino inventario com'era così vabbè sappiamo nel frattempo ok in teoria io devo mettere una di tutte queste di qua mettiamo questa ok vediamo di capire dove devo andare per questa ok mi sono appena accorto che non stavo registrando il gioco e che lo sto registrando adesso comunque si sentono brutti rumori non so dove io debba andare perché mi fai vedere un'ora una che sta giocando col bambino quando mi devi fare capire sì sto capendo tutto tutto sto capendo di dove sia io mi sto cagando in mano oh oh piccio non sapete di sicuramente avrò tagliato minimo 4 minuti di video per capire che era qua perché pensavo fosse di sotto non si può accendere scopriamo le coperte ci troviamo il bambino troviamo birra lattina in realtà non birra anche questa è la zona che mi aveva fatto vedere penso nella tv è mia è sempre il bello anche oggi mi posso dare eh? si mi posso dare sei tardi? ti capisco è difficile restare in questo posto si, lo so e mi piacerebbe che vieni ma hey, dove stai a parlare tu? ma c'è di nuovo il Dottor Giovanni che lo dicono non ci posso dare non è che ora mi obbiaccio non mi devo abbiacare come lo so capito audio mi senti che ti ha formato hai capito? Dwayne, ovviamente non c'è misteri qui ma posso vedere che stai pensando se questo è vero come questo e qui non finisci mai non ho bisogno di dire nulla la questione è chi sei? ma chi sei? Dwayne! ma questo è niente ma un nome non c'è capitano nulla non c'è la musica è uguale non c'è beviamo che non succede qualcosa tanto non tanto vorrebbe succedere nulla non c'è prendiamo una nostra amicizia a un'ora bevi pure tu stupito guaglione ah è mezz'ora che lo faccio però non mi dispiace bevi buono mascherato ciao sono io che ho parlato non finisce questo bicchetto è infinito la beve è infinita se vuoi mi aiutarti ho bisogno di sapere qualcosa non c'è non c'è non c'è che ti succede? ma non è piace la beve e poi è beve non c'è non c'è che ti succede? cose 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 come non c'è non ti preoccuparti mio amico prendi una sip e tutto sarà tornato normale vai finalmente le allucinazioni è strano dopo 8 bicchieri no no non li ho contati però per la stia di stia di stia ora ho scontato qualcosa altro piccio 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 beviamo 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 non ci pensiamo amico mio hai detto che sei mia amica aiuto oh ma di nuovo nooo ora spunta qualcos'altro sto già bevendo non è il gioco una lotta che io ho come non è il gioco tu sono mascherato, ciao la beer è la soluzione ai problemi? no ragazzi posso alzarmi? già, non scherzicuro non sento manco più i miei sorsi oh ah il pezzo della maschera ma a quanto sono arrivato? pensa assai a posto è una per oggi l'abbiamo fatta a posto tizio? come fa a muoversi bene? posso ok scherzavo è ubriachissimo attraversa le scale e siamo ritornati in questa stanza di merda no, direttamente da casa facciamo prima salvataggi in corso e meno male e io sai che faccio? salvo la partita nell'ultimo slot accetta quante maschere serviranno ancora? non lo so prendiamo un'altra videocassetta allora queste tre già le ho fatte me ne mancano poche bride no, no, basta, basta per ora è bride era questa? non è questa non lo ricordo quelli che ballano ah ci sta un mezz'ora solo per trovare quella giusta quella del mare l'ho vista oh, un po' ritardato piccio oh, ma che cazzo tala eh mh io però salvaggi in corso cosa mi stai salvando? io che sto ritardando ciao grid in teoria è questa in teoria no, capiamo no, questa già l'ho fatta dimmi che è questa no, no sì, che è questa questa è pride non era pride quella che mi serviva no, no non era pride era pride era pride sono picciolo mi sto confondendo però questa non l'ho trovata quindi mo sta cercando intanto vedo che sta registrando per fortuna meno male che loro si diverta dove si trova qua se ci sta un jumpscare io muoio è inutile che mi fai vedere questo non lo capisco dove si trova eh, io peeeh infatti è ricominciato ehi, andiamo a ricercare per tutta la casa partendo da sopra per fortuna di qua è illuminato questa non è trofeo guadagnato qua non ci sta nulla aspetta no dicono non penso dentro gli armadi mi spawnano tipo restanze e mi servirebbe che la luce qui si accendesse e invece no omega 6 la chiave per cosa? la chiave per? qua accendino non me ne mettono sono scomparsi dal tutto gli accendini Dio pronto si prende il corpo e poi la mente pensate inquietante così si fa eh già eh già eh già non posso riappacare Vada, non mi dispiacerebbe onestamente un po' di compagnista, cosa di merda Mi va bene qualsiasi persona, basta non quello di colore che mi spunta ogni tanto Devo andare per caso di qua Tanto lo so che tra poco succederà qualcosa Che bello avere un accendino Proviamo, il problema è che non c'è luce Ah qua magari un pochino Vediamo se è per questa la chiave Questa non è eseguibile al momento E io... Però qua si accende, perchè nelle altre no? Dov'è? Ah ora si accende No, apriti subito Si trova... Sicuramente è qua Quello che devo trovare, beh? Per questo è spuntata una soneria... wow Oh è qua nel bagno Nooo Aspetta ma a me mi servono le pillole, ecco perchè c'è sta musica Dimmi che sono pillole, non sono pillole Picciotti, addios Pillole, pillole, pillole Per favore, pillole, pillole, pillole Che cos'è una borsa? Pillole voglio io Sono al... Ma c'è il cervello tutto strano C'è un senso buono Dov'è che devo andare? Di qua no Vado di nuovo giù? L'unico punto dove non siamo andati del tutto è giù, giù Andiamo giù qui c'è Dimmi che si apre questo Qualcosa si aprirà però, eh? Qua per caso Dove devo andare? Allora L'unico punto dove non sono andato È che voglio andarci per ultimo A meno che non muoio prima È un punto dove ogni volta mi fa un po' paura Passarci E se c'è questa musica Mi dovrebbe spuntare proprio in quel momento Chi so io Ma aspetta Nooo La tv si spende c'è Un sacco di secondi L'importante è che per ora Elevati Possono accendere le luci Eh, la sanità già poco scoppia Dimmi che dico Per favore Eh niente Mi sta spuntando È finita Ciao Casteldacci È stato un piacere Io mi levo una cuffia Vado di qua È una mano Ah, un guanto Dico no Ah, Gesù Gesù Perché non mi fai trovare subito la po- Di qua Gesù Gesù Fammi trovare subito la stanza Gesù Che brutto sto posto Perché ogni volta ci devo passare La mia unica alternativa La più brutta Accenditi Ma nemmeno qua Dove devo andare È finito È finito È finito Non mi trovo manco una pillola Come devo Sopravvivere io Una pillola Che scongiuro No, di qua Vero, vero Ora che c'ho Ah, mamma mia È stato un piacere Conoscervi Di Giul È fatto così Forse dovevo andare A sinistra Ma non ce la faccio Ma non ce la faccio Dimmi che questa Si apre Viccio Ma che devo fare? A meno che è A meno che è A meno che è Non so Dove andare Qua è l'unico E non è nemmeno Qua Dai Dov'è che devo andare? Pillola Pillola Manco una Che devo fare? Accenditi Forco Fa sopra E vi grazie a tutti Per il prossimo video E un bel po' in anno Bye bye Ciao 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 Grazie a tutti.